Però il punto è che questo 40%, questo 40,8%, bello perché ormai facciamo gli splendidi, 40,8% no, riprendiamo anche il virgolotto, non si butta via nulla, perché ci ricordo i tempi in cui fattivamo la fame, ecco. Grillo ha anche detto che ci sono stati brogli, lo stesso atteggiamento, il populismo è sempre uguale, è lo stesso atteggiamento che ha avuto Berlusconi quando ha perso le elezioni con Prodi, ci sono stati brogli, sono talmente stanco di tutti i brogli che abbiamo fatto che non posso risponderle, guarda, ci siamo stati per fare il 40,8%, abbiamo fatto tanti di quei brogli che ci è venuto a forza di fotocopiare le schede, lasciamo stare, lasciamo stare.